Stava creando scompiglio in un bar, insultando e aggredendo verbalmente il gestore del locale. Un 36enne di cittadella, pluripregiudicato e senza fissa dimora, è stato bloccato dai carabinieri intervenuti dopo le segnalazioni fatte dagli altri avventori del bar. L'uomo, evidentemente ubriaco, alla vista dei carabinieri vi si scagliava contro, minacciandoli di morte e aggredendoli. Dopo l'arresto per resistenza pubblico ufficiale per il 36enne, è arrivata anche la denuncia per aver violato il provvedimento del cosiddetto DASPO Willi, ovvero il divieto di frequentare i locali pubblici della provincia.